Omar Sivori Omar Sivori arriva in Italia nell'estate del 1957. Ilitolare della Nazionale Argentina compone insieme a Maschio e Angelillo il trio degli angeli dalla faccia sporca, campioni in forza al River Plate. La società attraversa un periodo di forte crisi economica e decide di vendere tutti i suoi gioielli. Maschio finisce al Bologna e Angelillo all'Inter. Sivori viene valutato il doppio dei suoi compagni. Per comprarlo occorre sborsare una cifra che corrisponde a circa 160 milioni di lire. Umberto Agnelli, presidente di una Juventus che ha chiuso il campionato al nono posto, non si fa spaventare dall'ingente sborso economico e accoglie Omar con parole di benvenuto assolutamente eloquenti. E' da due anni che ti aspettiamo. Per tutta risposta Sivori confessa che il suo tempo di attesa è persino più lungo. E' da cinque anni che voleva la Juventus, della quale si è innamorato grazie ai racconti di Renato Cesarini, suo scopritore e tecnico del River Plate, ex giocatore della leggendaria Juve del Quinquennio. Ha due soprannomi Omar Sivori. È il cabezon per la sua grossa testa e anche è il gran zurdo, il grande mancino per l'abitudine che ha di calciare esclusivamente con il sinistro. Con quel piede fa quello che vuole, in lui tecnica e istinto si nutrono di divertimento e di narcisismo. Da un giocatore così è impossibile non essere conquistati, a prescindere dai risultati lusinghieri che ottiene, contribuendo a edificare un'era di vittorie. Già all'esordio, nella prima giornata del campionato contro il Verona, guida la Juventus al successo per 3 a 2 e il tabellino dei marcatori, composto da Boniperti, Sivori e Charles, lascia intuire chiaramente chi saranno i leader della Juventus 1957-58. Omar non tradisce le attese e con 22 reti conquiste il terzo gradino del podio della classifica cannonieri. Farà di meglio due campionati dopo, vincendola con 27 centri e nel 1960-61 arriverà a toccare la media sconvolgente di poco meno di una rete a partita, con 28 gol in 29 gare, contando tutte le competizioni. Nei tre campionati conquistati in quattro anni, dal 1957 al 1961, Sivori ha un rendimento incredibile. Non è esagerato dire che il pubblico impazzisca per lui. Nella Torino dell'epoca, imperniata su una forte cultura del lavoro, l'argentino rappresenta un autentico divertimento, un pizzico di piccola grande follia dominicale. di sicuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sivori chiude la sua avventura juventina nel 1965. Non va più d'accordo con l'ambiente, che non ha più la pazienza per assecondare le sue ribellioni, in particolare quelle nei confronti di Eriberto Herrera. Il tecnico paraguaiano non gli concede privilegi, pretende che si alleni come tutti gli altri e che corra. Omar preferisce accasarsi al Napoli, dove ancora lo tratteranno come un dio. Eriberto Herrera Con la Juve chiude sette anni di grandi soddisfazioni con 167 gol in 253 partite e la conquista del pallone d'oro nel 1961. La sua scomparsa nel 2005 ha commosso l'intero popolo bianconero e chiunque ama il calcio, nelle sue versioni più fantasiose. Proviamo a condensare la lunga e brillante carriera di Omar Sivori alla Juventus in una top ten di grandi momenti. Partiamo dal primo campionato ed è una gara che lui sentiva particolarmente, il Dermi. Il 2 marzo 1958, Omar si diverte a matare i cugini Granata e nel 4-1 finale ci sono due sue reti a sancire la netta differenza tra le due formazioni della città. Il primo scudetto viene festeggiato con un 3-0 sulla Roma. Per la prima volta nella storia del calcio italiano si gioca in notturna. Contro i giallorossi Sivori va in rete dopo appena 6 minuti e inventa un geniale assist per la rete di Boniperti che chiude i conti sul 3-0. L'anno successivo, la partita più bella di Omar è Juventus-Fiorentina, un 3-2 con tripletta d'autore. Nel 1960 Sivori vince campionato e classifica cannonieri. Il successo più suo è il 3-0 conquistato a San Siro sull'Inter con la realizzazione di una doppienna. Il terzo scudetto vede due grandi exploit del fuoriclasse argentino. La tripletta a Napoli, il 4-0 che annichilisce la squadra di casa. E poi i 6 gol, record a tutt'oggi mai raggiunto in Serie A, con i quali Sivori partecipa al 9-1 della Juve sull'Inter, che a fine torneo schiera la squadra ragazzi per protesta. Omar non ha pietà degli avversari e si diverte in una gara che ha più il sapore dell'esibizione e del tirassegno. In Coppa dei Campioni la sfida più memorabile di Sivori è quella contro il suo rivale storico, l'argentino Di Stena, stella del Real Madrid. Sono i quarti di finale dell'edizione del 1961-62, l'ultima alla quale parteciperà Omar. Al comunale di Torino prevalgono gli spagnoli proprio con un gol di Di Stefano. Per Sivori è un'onta troppo grande, va cancellata presto. Ancor più per la dichiarazione di Osterreicher, il direttore tecnico del Real, che proclama con assoluta sicurezza, a Madrid Sivori non toccherà palla come a Torino. Mai previsione si rivelerà più sbagliata. La Juve vince 1-0 e la rete è del suo giocatore con i calzettoni arrotolati, in segno di sfida nei confronti degli avversari. All'epoca, in presenza di risultati che determinano una parità, è prevista la disputa di una bella. Si gioca a Parigi. Non basta la rete proprio di Sivori per evitare la sconfitta per 3-1. Omar gioca una grande gara, resa impari purtroppo dall'infortunio di Charles, che costringe la squadra all'inferiorità numerica per più di un'ora di gara. Il mio gioco, la maniera di intendere il calcio, la mia maniera di giocare, è abbassata soprattutto nell'abilità. Credo che sono stato un giocatore abile. Non voglio fare paragone, ma forse Maradona è un giocatore che aveva forse molto di più, ma più o meno le stesse caratteristiche che avevo io quando giocavo. Grazie a tutti.